Lo chiamano player trading, è un qualcosa che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni quando il calciomercato sta diventando sostanzialmente una notizia che dura 365 è un argomento del quale si parla 365 giorni l'anno senza soluzione di continuità torna clamorosamente alla ribalta ora che insomma è tempo vero anche formale di mercato e torna alla ribalta per quello che sta accadendo al Milan quello che sta accadendo in particolare in queste ore a Sandro Tonali che sta chiudendo il suo rapporto con il Milan e ne sta prendo un altro con il Newcastle le cifre sono da capogiro come detto circa 80 milioni al Milan tra bonus e cifra pattuita con i sauditi che hanno preso il Newcastle e poi 10 milioni l'anno da quello che si è capito 7,5 più i bonus 8 più i bonus al calciatore che va in Premier va in Premier a giocare la Premier è considerata il campionato più spettacolare, più organizzato, più ricco lo è ovviamente del mondo e insomma è ovvio che qui non si possa parlare di scelta di cuore ma si debba parlare di una scelta di un altro tipo perché insomma capisco che da 2 milioni a praticamente 10 milioni l'anno con i bonus la differenza di ingaggio sia tantissima e ora resta da capire obiettivamente cosa significhi o cosa possa significare giocare a San Siro piuttosto che a Newcastle cosa significhi giocare con la maglia rossonera più solto che con quella rispettabilissima del Newcastle cosa significhi giocare a San Siro con la maglia del Milan in Champions cosa significhi giocare con la maglia del Newcastle in Champions a Newcastle è tutto lì, il discorso è tutto lì e ovviamente il player trading è qualcosa che noi abbiamo imparato a conoscere è qualcosa con la quale dobbiamo fare i conti in questo momento nell'UEFA c'è secondo me una scarsa attenzione al fatto che con queste possibilità finanziarie peraltro senza che nessuno vada a vedere io ricordo sempre figuratevi se io ce l'ho col Manchester City e cosa mi frega del Manchester City che quella società è sotto inchiesta per 115 irregolarità ora la federazione inglese si sta muovendo con molta più lentezza rispetto a quanto per esempio non si sia mosse giustamente quella italiana a proposito della Juventus tanto per fare un esempio e quindi non l'UEFA ma la federazione inglese mentre mi rendo conto che l'UEFA in queste ore si stia un pochino così distinguendo per le punizioni che dà per esempio alla Roma di Friedkin con le quattro giornate di squalifica a Mourinho per le questioni legate a Taylor e il divieto della trasferta ai tifosi della Roma per un turno per un turno di Europa League della prossima stagione ora ovviamente Mourinho che diciamo così non è personaggio molto accomodante si è subito dimesso dall'organismo UEFA di cui faceva parte fino a poche ore fa con una lettera al signor Boban cito testualmente da presentare con le dimissioni poi al presidente signor Seferin ricordo che per esempio nei confronti della tefoseria del West Ham che ha vinto la Conference League contro la Fiorentina dopo aver tirato degli oggetti in campo aver colpito Biraghi avergli sostanzialmente procurato una ferita alla testa con tanto di emorragia quindi con tanto di uscita di sangue e aver fatto spaventare la signorina la signorina non so che faceva l'assistente dell'arbitro nei pressi della curva dei tifosi del West Ham è andata una multa di 55 mila euro una cosa simile mentre per i tifosi della Roma che hanno qualcuno dice aggredito ma non hanno aggredito nessuno il signor Taylor le hanno riservato delle male parole chi ha tirato la sedia non era un tifoso della Roma e peraltro il signor Taylor era già entrato diciamo così nella zona in barchi quindi non correva nessun rischio certamente un episodio deplorevole ma ripetiamo ci sembra che le sanzioni non viaggino sullo stesso binario non siano così univoche non ci sia un metro di misura univoco comparabile quindi insomma questo è il calcio al giorno d'oggi è questa roba qui bisogna in qualche modo accettarla bisogna accettare lo strapotere delle squadre inglesi che hanno delle proprietà ricchissime così come il Paris Saint Germain o il Barcellona o il Bayern Monaco e il Real Madrid c'è da dire che ripeto verso tali di questi club non mi sembra che le federazioni nazionali siano intervenute con particolare fermezza non mi sembra che da lui a farci sia l'intenzione di rendere le cose un pochino più giocabili nel senso che dobbiamo capire se adesso in questo momento non sia giusto parlare per esempio di salary cap e fare in modo che si giochi non dico tutti ad armi pari ma insomma con la possibilità di poter competere in quanto ad ingaggi e capacità di pagare i cartellini che sono qualcosa di mostruoso per alcune squadre non possono essere pareggiati da altri buona serata noi ci vediamo ci sentiamo presto grazie a tutti